L'occhio di tigre è una pietra che ha catturato l'immaginazione e l'attenzione di molte culture nel corso della storia, grazie al suo aspetto accattivante e alle sue potenti proprietà energetiche. Riconosciuta per la sua capacità di infondere forza interiore, fornire protezione e migliorare la chiarezza mentale, questa pietra è estremamente versatile e molto apprezzata nella cristalloterapia Si tratta di una varietà di quarzo che presenta striature dorate marroni e gialle, che creano un effetto ottico noto come «gatteggiamento». Questo fenomeno conferisce alla pietra un aspetto simile all'occhio di un felino, cosa che ne giustifica il nome. La provenienza di questa pietra è prevalentemente associata a paesi come Sudafrica, Australia, India e Birmania, dove è anche radicata nelle tradizioni ed è spesso usata come talismano. Infatti tra le sue molteplici proprietà energetiche, l'occhio di tigre ha la capacità di offrire protezione ed è considerata un potente scudo contro le energie negative e le influenze esterne dannose, capace di mantenere una barriera energetica intorno a chi la porta, respingendo le vibrazioni negative e promuovendo un senso di sicurezza e stabilità. Per questo nell'antichità i soldati romani indossavano l'occhio di tigre come talismano durante le battaglie, e persino durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni piloti portavano con sé l'occhio di tigre come amuleto protettivo durante le missioni, tanto da farne la pietra degli aviatori. L'occhio di tigre è inoltre conosciuto per la sua capacità di infondere forza e coraggio. Questa pietra è particolarmente utile per chi affronta sfide personali o situazioni difficili. Indossare o portare con sé l'occhio di tigre può aiutare a superare paure e insicurezze, rafforzando la determinazione e la fiducia in se stessi. Questo effetto è particolarmente potente per coloro che stanno attraversando periodi di cambiamento o che devono affrontare decisioni importanti. Essendo associato ai chakra della radice e del plesso solare, l'occhio di tigre aiuta a radicare l'energia, connettendo l'utilizzatore alla terra. Questa proprietà di radicamento aiuta a sviluppare un senso di stabilità e sicurezza, e a mantenere i piedi per terra anche nelle situazioni più stressanti. Il radicamento è anche una caratteristica essenziale per chi lavora con energie sottili, poiché aiuta a mantenere un equilibrio tra il mondo spirituale e quello fisico. L'occhio di tigre è anche molto apprezzato per la sua capacità di migliorare la chiarezza mentale e la concentrazione. Aiuta a mettere a fuoco i pensieri, facilitando la presa di decisioni con maggiore lucidità e sicurezza. Questa proprietà è particolarmente utile per studenti, professionisti e chiunque necessiti di potenziare la propria capacità di concentrazione e di organizzazione mentale. Durante sessioni di studio o lavoro, l'occhio di tigre può essere un prezioso alleato per mantenere alta la produttività e l'efficienza. Per mantenere l'energia dell'occhio di tigre e le sue incredibili capacità, possiamo pulirlo regolarmente sotto l'acqua corrente e ricaricarlo esponendolo alla luce del sole prima di utilizzarlo nelle nostre sessioni energetiche. Un altro buon metodo spesso utilizzato è quello di posizionarlo su una drusa di ametista o quarzo per rimuovere le impurità accumulate. L'occhio di tigre, con le sue potenti proprietà energetiche, è una pietra di grande valore per chi cerca forza, coraggio e protezione. Che si tratti di superare paure personali, affrontare cambiamenti significativi o semplicemente migliorare la fiducia in se stessi, questa pietra offre un supporto prezioso. Con la sua storia ricca e il profondo simbolismo, l'occhio di tigre continua a essere una delle pietre più amate e rispettate nella cristalloterapia, e nelle culture di tutto il mondo.